Amici carissimi di Natocazzurra e Meteo Brollo, un sereno buongiorno da uno dei ponti su Riva Vena. Dunque un anticiclone ancora possente che non intende muovere le tende del suo territorio almeno fino a giovedì. Quindi tutto sommato giornate tranquille, abbastanza soleggiate su buona parte dello stivale naturalmente italiano, però anche sulle nostre regioni qualche velatura in transito come è accaduto ieri ma piuttosto innocue, quindi senza precipitazioni in un contesto climatico tutto sommato positivo che in alcune zone d'Italia sta portando temperature più da primo di aprile che di fine febbraio. Quindi una situazione molto anomala ma non lo è solo per l'Italia, grossomodo anche l'Inghilterra ha sperimentato temperature da record per fine febbraio e quindi situazione molto anomala in buona parte appunto del territorio europeo. A quando la fine di questo anticiclone? Con buona pace di tutti, grossomodo già venerdì avremo un primo ostacolo perturbato che si farà strada da occidente, naturalmente scalzando parzialmente questo anticiclone che però rimonterà in sella non così forte ancora da sabato. Si tratta di una perturbazione atlantica piuttosto poco attiva devo dire ma che naturalmente riporterà nuvolaglia sparsa di buona consistenza per la giornata di venerdì, qualche piovasco in transito nella mattinata, nulla più, qualche nevicata appunto sul comparto nord-occidentale tra i 1.400 e i 1.500 metri ma gran poca cosa, poi da sabato miglioramento veloce con cieli terzi e puliti nuovamente e altri di un paio di giorni discreti. Ma comunque qualcosa sta cambiando perché potenzialmente questo anticiclone sembra ritirata della prossima settimana. Saremo più esaustivi nelle prossime edizioni, intanto vi salutiamo.